Conte nella zona di Sant'Angelo, l'acqua e l'episodio soprattutto, come venire a mettere una piccola appendice adesso lì? Beh, mi che conto... Mi verso, finì la guerra, c'è stato uno che si andava a pescare, insomma mi ricordo se il mato c'è restiato, e gli ho detto che sotto il ponte d'Ottavi, una troppa, e gli ho detto che la peserà mezzo chio. Dopo c'è andato altri a pescarla. E' aviccata un giù, tre giù, cinque giù, uno veniva a sparare con il choco e gli ho detto, io a sparare, adesso mi a fuori, dal giù fuori d'està, agarri due e li escampare la via. Sì. Dopo gli ho detto che quando ti vai a pescar ti metti a l'esce, a girar torno 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 e a escampare via. Ma i fondi, dopo un paio di anni, deve aviccata da 30 giù, no? E' stata tratta. Ma la casa non l'hai vista così? L'ho vista, ma dopo l'ho montata, no? L'ho capito, ma non l'ha ciappata. L'ha ciappata ancora, e ancora si è anche a ride. Ma sei stata una leggenda, una storia, insomma, che l'hai inventato? No, no, tutta la popolazione, tutti i Tosati, e qui che andava a pescare, tutto un'acqua, così l'ho montata, così insomma. Adesso, buongiorno. Io l'ha sentito, l'ha sentito che aiuta? Sì, sì, io abitavo nella zona. Io abitavo in questa zona. Mi abitavo, comunque dico, a Dabonfero ieri, prima, che non voglia la strada era. La strada era da Miani. Da Miani. Io abitavo in questa zona. E mi abitavo, addirittura da dove che di Miani, che stava, che stava, io amadio. Era il caseo, il salgiveo. Io ero dal CIL, io ero sui del Marlo, io staria, che era davanti a Paesia Verde, che era una trattoria al Marlo, che non si maniava, io ero si esogli di bollo, stava un margato il 7 di april. E noi andavamo, su del CIL, di là, sulla proprietà di Miani. Andavamo, andavamo, da Moro, credo che dopo, diremmo, dopo il punto Ottavi, dopo il punto Ottavi, sì, a destra, perché stava il tradizionale, credo, Vila Letizia, credo che adesso è quella della Villa Letizia, più o meno. No, è qua. Dammo su, dammo su, a destra del Cile. Diciamo, per dettagli, in una strada dopo l'orfe del Ferroienno, invece c'è il Ponte Ottavi, se andavamo a dritti, prima di arrivare a Capitella, a sinistra era la carica delle case, dal rio, sui lorti al rio, che erano i peli, i poveri, non hanno detto che partite, ma non mi frega l'idea. Era proprio la tradizione di noi? Si, si. Io mi ricordo Bebi Piovesan, che sono in pensione, e ero in Ferrovia, e c'era Bebi Canona, che c'era il mio Baron, io ero il Polo Aldo Cagnato, qui alla Madegno, che c'era il Baron, qui alla Madegno, e era Gisio Maddio, che sono in pensione, qui alla Sip, e la Bueri Cremonesi, il Biscoro, ma era Sant'Angelo, diciamo, l'inizio Sant'Angelo. Comunque, su Storsiglio, oltre a questo fatto di questa trotta, c'era qualche altra storia che contava, che era sotto quel Ponte Ottavia, ad esempio, non so, avrei mai sentito dire altre storie? No, no, mi ricordo quando andavamo a una barna, e mo' tagliare fino la rete, mo' tagliare il tubo, e la rete, non c'era come che c'era esso, e poi mo' tagliare dentro, mo' tagliare la rete per fare i tuffi. Sì, ero capito. Ma mi ero curioso questa... No, no, è così, che... Come contava? Nata così, insomma, ha visto la trotta, ha pescato, mi no, e a me che va là, e poi si scappava via, guarda ciò che si sconde sotto il ponte, e dice, e dopo con te vedi a canna, gli dice, agli gira, tomo, 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 vien fuori, tomo, 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 ma gli altri che credevano? Nooo, era così parisa. Sì, è parisa, insomma. E allora qui, che credeva, sa. Sì, tornati così, era qui... Pocchi... ...dieto, giumato. Allora, guarda io, Lussi, te ne sei fatta un giorno? No, l'ho paura? Sì, e mi ha fatto poco e sa, lo asso subito o no? Ommi, io asso finchè ne vuoi! E' una parola che basta, storia qua? Cuanto mi fa dannare e basta! Ah, dai, 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 dai! Lussi, grossi che noi erano? Sì, che ne erano, che ne erano. Allora, che c'era, i Fontalassi, Prima il Ponte Ottavio a sinistra che ha salto e butta tutto che spacciava il rifiuto di avere tanti chiusi, tanti chiusi, come se è buono. Giustanto la salto è praticamente un buonio là tanto da parte... Passa il Ponte Ottavio a sinistra che è stata fuori a Sbarre, a sinistra e ha salto e butta il rifiuto manca prima della guerra e dopo la guerra. E' stato sconchato, tutto a Paiù. Come prima, dopo la Fiori, a destra e a sinistra, a destra e a destra e a destra e a destra, a destra e a destra e a destra, a quei macieri e bombardamenti, dove pensavamo fare il dopo lavoro. Sì, e anche le quattro, e tu dico che hai casa, hai a tutta un paio e due. E lì era a sinistra, non si trovo, io l'ho fatto il disegno, lì era in due case, e diciamo i lazaretti, no? Sì, comodi. E questo è butta il giorno di 52. Sì, comodi. Lì era un pergo davanti, e il suo pergo era un sistema, ma io mai ne stavo capisciù, e tu ne sa, sì, un butta il giorno. Sì, e una casa... E infatti, proprio come aveva visto il suo disegno? Sì, sì. Sì, era proprio... I famosi lazaretti? Sì, i famosi lazaretti. La strada era prima la strada del Puaretto, dopo diventava la strada di lazaretti vecchi. E dopo diventava via Sartori, via Stefani, via... E via Topani. Sì, era una strada di lazaretti. Sì, era una lazaretti. Prima di arrivare a sbarri, a destra, io ero paio che ci stavano 90 baracche. Ah sì. Allora 29. Sì. E erano tutti quei scolari, dei bombardamenti della guerra, fino a 18. E abbiamo fatto... E i gai li ha fatto, non mi glielo c'èo. Fanno una società di farleschi. E mi... Sto io, come accennarli, io stavo a fare un libro, se trovo qualcuno che mi aiuta, e ... E... E' un bel lavoro. E... E perché? E' un altro conmissario. Sì, ma scritto, 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 scritto per l'è ... Ah, ma di è vero, però... E' un del nuovo originario, sì. è l'associazione dei amici devo trovare quello devo trovare per me è un messaggio trovare per iudino è una costanza costanza proprio mi vedo voi provare a raccontarvi un po' di storia di sua sapere di pura gente storia che fa parte di ammessità e tento di raccontarvi in via eto come ho parlo perché non ho tanta confidenza con l'italiano gente, provè e darei che bello mi credo che sia l'unica maniera per dire tutto quel che viene dal cuore e parole salta fuori da suoi e cuore lisce senza dove saltare quel che non si trova c'è anche un modo per ritrovare se stessi e ha propria indietà e ha propria e propria reide e tradizione e cultura mi spero dato che Marco Povese che ha fatto capire in Veneto dai romani greci turchi mongoli e poi fin dai cinesi sia buono che mi treviso cara treviso mi ricordo quando eri più giovane e mi imputevo e ora quanto bello che eri ogni casa si può dire che aveva il suo giardino e quei tu cinque isole e dove ti sei punti come punti che ne teneva i gai come mi ha spiegato il professor Bailo te eri un sogno come ancora e tu acqui si insiose e ciare e limpide come se poteva pescare in qualsiasi posto più che trovarlo e più mi è convenzo che sei una delle più belle città del mondo nonostante tutto mi credo di essere uno di quei pochi e se non veramente pochi che ti vede ancora sinceramente bene e te sento parte di me ogni volta che ti guardi un canale o un fosso o che ti butti la zona a casa o che ti restaura malamente sento dentro di me come una feria e mi viene sui rumegon e mi rabbi con me perché non posso fare niente mi credo che poche città e gabbia di agente come Treviso allegra spettivona sempre pronta a frecciare maiciosa ma cordiale ospitali ma soprattutto c'è colonna i nostri porti e le nostre piacce come la realizzazione del giornale quasi tutto quasi tutta la gente ha una novità da raccontare e le notizie arriva per le case prima della radio e dei giornali insomma è una roba di varicinanza perché dice se qualcuno mi aiuta mi penso che io le capacità in un vento così la gente ha fatto tra l'altro se vista tanto dentro disegno che uno avrà vissuto un po' provo vedo vedo penso buonga vi auguro comunque a mio punto non sei che mi interessa tanto io voglio interessare quel sile soprattutto sul sile siccome che adesso vorrei ristampare il suo libro sento l'altro episodio non si mi avevo conto così pensavo che fosse una tradizione più antica no dopo la guerra pensavo che fosse una roba no perché ad esempio i suoi sorgenti che sia la tradizione del caro che è stata sprofondata sorgenti che fosse una leggenda del genere perché questo è il nostro proprio tutto niente ma non come esempio che io mi sentivo di nessuna di queste storie qua sulla zona nostra 60 anni sorgenti mi sono a limite di il limite di qualche fiata o quale leggende questo sì che rio non sta trotta mi pare una roba però ho visto che era una roba da tosate insomma quindi non so se lui si era un po' la vetra appunto perché se era una roba antica sì quindi arriva che restiato al mato no no al mato io non sapeva che ho il disegno che sotto quel punto d'Italia era queste bombe in altro dopo l'ultimo no comunque mi ringrazio che se l'ha prestato vuoi dirmi ma pensavo a fare ora no 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 ecco comunque non è toque noi Sant'Angelo come dicevo mi usci quello il suo diciamo cagliussati a Sant'Angelo non sono la pilla andava sarebbe un fatto di canoie di tora in movimento ai murini addirittura si e poi come gli areste canoie no tra tori ho fatto di traversi incollare incollare e con catane sotto con imbezziglio e fa così e fa sponde si fa sponde si e dopo è così e si ha fatto due dopo sono visitati militari insieme con i pedagli con le cose siamo nati sul silio e tutti erano nati sul silio insomma vedo adesso ma così cantivamente ma vino adesso si anche dunque una delle case di lazaretti dice ma qui è vicino che ando con via satori e via stefani via psicopedico da campagna da campagna ma è una casa del contadino io avevo anche i tu erano strani che erano sul paio se aveva bestie vendeva come gli aveva no lui imparavano andando via e poi io rigeutavo a fare strani e poi gli mi buttava dentro no e mi dicevano su no imparavano così no con l'acqua trova il culo si proprio ma eri bravi non eri bravi quant'è bisu erano sempre da parte di qua però si da parte chi eri come sto mandi i martignoni detti marcoini sono nomi marcoini sei stato sotto la parrocchia di san giuseppe dunque finalmente il 29 erano sotto san giuseppe san giuseppe si mi stavano in canie ma erano su una di queste case disperate no mi stavano in canie dunque finalmente il 29 siamo stati sotto san giuseppe qui ho fatto il baracchio buttato le baracche siamo sotto san satefono perché non si 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 parrocchia di san stefano si perchè san giuseppe sarebbe un monastero si e san iconi satefono la parrocchia si perchè siamo appunto dell'inizio che era e io vado a dire che erano accesa anche e veniva un signor nazari parrocchia di san stefano a dirmi se da altri la vi si parla che la diciamo la ma ceseta così la piena 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 e poi ho fatto una stalla poi ho fatto gli scoiati e poi ho fatto quelli che mi ricordo che usava qui che non poteva una marca del tono impresa una ceseta con buseto e con quello usava a san nicolio davanti a fontana poi a cria che si fornare un po' e davanti a dava un chio da pan costamarca costamarca ma chi garava il prete garava qui che aveva bisogno per i poveri ecco allora come siete è interessante il discorso che mi diceva che Valtri anche da parte di qua frequentare sempre questo sindaco io era la seconda strada ma dove andai sono anzi a il metto te come a punti ottavi perché mi sono tagliato con di sul campo del dio e calzato perché facciamo esprimere il bai o no perché andiamo per un altro sanicola una volta non lo ricordiamo quando si poi era un oratorio che recorriva tutti i fiori della città no i singoli tutti santabono smerore sant'angelo san giuseppe buongiora per tutti i cantoni non un niente che dovrei metterlo su un cuore e si trovavamo tutti i fiori elementari e medie come era il cortio di siori perché quei che andavano a studiare il Pio X o l'istituto riccardo andavano a mangiare e dormire e venivano a casa e il cortio di fuori e no va vero altri ma gli erano separati ora separati mi insegnava dopo scuola per una banda scuola ginnastica fisodromatica gli eravano a mangiare perché non poteva proprio quando gli ero questo appassionato? lui nel caso del studente davanti a chiesa la cosa sempre sempre gli cercava di sistemare lavorare i fioi insomma gli erano che dovrebbero essere un po' un litro ora anche se questa divisione è positiva si è positiva e sappiamo e dopo fossimo fuori andavamo a casa che non mi ricordo siamo introdotti Sant'Angelo facciamo le sfide e ora ho sinistra piada e sinistra sil contro e destra sil incontro il boion si sono stati però con la maggior parte quelli dei casi usati si si sono maggior parte che sono usati che era qui insomma perché noi contadivano no 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 mi ne schiava che non so non so ricordare in campagna mi ero scuola come ti usavo dopo gli armeni a prima casa dopo di armeni non è una casa a destra si 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 abito adesso no ma sono nato adesso qui ma via che era un po' manca più vanti dentro su una stradea dritta che lavorava che lavorava all'enel allora si insomma anonima lezica io non so perché mi ero scuola facendo quel tocco di strada di rio di riferire il dopo l'uomo ma se ha perché risponde perché non mandava non li scampiamo no ma erano fissi o cosa no no come io no no dai morai insomma suonava l'allarme scampiamo qualcosa a pie a pie o mi si vede monta in tre la paura la paura se la portiamo via a mangiare adesso vi conto a zero poi la mattina giorno vi un guardamento verso mezzogiorno e un quarto lo avevamo fontina sapignata formale più nero no che fontina cosa si chiamava no i muovè i buvè i polmulli dei cosi dei betti coralea coralea gli alani così allora siamo scampati via qui erano drillo a ferrovia questi due a ferrovia poi con di otta venire e poi cominciamo a mitragliare a ferrovia allora io sono scarpato e abbiamo una roba d'attesa del coralea e poi avevano un incendio di tocchetti quei che erano manco spunghi per tornare su se non stavamo senza mangiare era così beh allora non stava là qui di su là viverla viverla ma stiamo maldamente ora qua mitragliare a mitragliare dove erano io ero casa sul canino al canino a casa si ero sotto ero un tombino perché morire non so no guarda non so non so non so non so non so non so guarda allora io ero qui è vecino cos'arretto io ero in riva il vecino si uno si uno uno era a sinistra, era alzato a sua strada attuale, uno da Porta Calvi era a sinistra, e adesso era alzato a 6.000 dunque no a casa qui vicino a Sbari prima, a sinistra era il Lazaretto un altro dove era? un altro dove era, faceva angolo via Stefani con via Sartori era un pochettino, una ventina di metri del Vecciapala era lunga, era stata lunga 30 metri e anche la stava, tante famiglie che fa paura sui Lazaretto? si dentro proprio le case si abitava sempre perchè erano quei residui del Vecciapala no, questi erano contadini quei sui Lazaretto erano contadini? quei che facevano con via Stefani e con via Sartori invece di qua contadini? no 8 anni, gli aveva il topo di questo povero ferroieri erano a terra lavoravano a Porto 8 8 si, più 8 anni dopo dove erano via Procebon come si chiamava il contadini? Martignone, dei T-Marcoini ah, dei T-Marcoini eh, dei T-Marcoini e dopo che aveva tutto il museo del Sil dal Ponte di Ferro passiamo fino al Ponte Ottavio i T-Marcoini lavoravano lì i T-Marcoini i T-Marcoini che erano un po' unica? unica no fango era e Marcoini sono stati quei che insegnavano là praticamente? si, si che davano che altre famiglie dei contadini che erano? no, era questo e qui venivano due single sille e a chi gli operai era Catarin che era il capo stipide che era il capo operai a Piangi e era il nato Catarin che era la vedova e il telefono per questo e io che era il fattorino a Leca un baritono di qui che andava bene sempre su questo gruppo del campo si e io ero il salto che era un salto alto che lavorava al Maceo comunale che era dove al Maceo? al Maceo era che era dove due agli acciaio adesso era ah perché porta per andare contro del barco mi ricordava il nome di questa gente che era? dove era? dove era? una famiglia di Martignone che era ai posti che era e la volta non la trasferiva a Udine ma qui era qui stava sul lazzaretto sul lazzaretto la parte di qua però no quello vicino si quello vicino si e se le case invece da Marco Vignone dicemo io ero quattro sindaco dai io ero su una stanza 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 su una casa di Marco Vignone non mi potevo tutte tutte la manà poi dopo questa ultima vera tolta la mangiare è pulita la mangiare la mangiare l'axaccia e la mangiare e anche il canino che l'ha putata anche quello di Ferrovielli sul canton venendo dal portacardi prima delle sbagli prima o dopo della guerra? si, si, prima o dopo della guerra? si, si, e si resistiva i bombardamenti? si, si, si è stato bombardato no, no, fortuna poco prima no, 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 si è vero ma era agli arrasalto era agli arrasalto perchè dove si muove il bar aveva un un crozo due metri del terra benale che andava su dove si esbarbava, era un crozo dove si esbarbava non era il passaggio il passaggio era in fondo ma quindi si operava per andare passare con i carri per andare lavorare era per via era un passaggio privato con Lucchetto era in via no, no, non glielo mai c'era lui mentre il vero passaggio che comunicava con Sant'Angelo era in fondo al casero si, adesso si chiama via Piani via Piani e beh, dopo veniva dentro per via via Piani si, per via Piani era il caseante questa casa adesso è stato dirocato no, è stato eliminato tutto un parche, si è un casetto piccolo ancora un baracchetto piccolo ma era l'abitazione era proprio Piani si vicino a Miani si, allora stava via lì l'ho nato l'ho nato, stava là fosse proprio Angolo e dopo per entrare in città entrava attraverso via via Piani dove via la palestra dove via la palestra mi sai, eh a girare, mi importa carri e su quell'angolo, diciamo, fra palestra e Sil c'è un rettango rettango e qui era il palestra è il palestra non è una ricerca non è una ricerca io ho intenzione tutti i tombini del caniè i tombini dell'acqua e scarico erano tutti quelli con le tombe dell'epoca di Napoli all'era cimitero mi ricordo quali tombini i tombini di scarico perché in Caniè coprava le bestie, no? cani e scuartava le bestie maiae e poi andava a saperli a Monigo un caro e quando c'erava i caniè partivano e aveva sangue e aveva sporco un bagnabea gli aveva gli scarichi che andavano sulle fogne questi scarichi dìva il muro le caniè e a tutti quelli quei dati dai morti perché non c'era la non c'era gli avevo portato i sussi i blocchi in cimento e aveva doppio un cappellino vuoto dopo che erano quelli che non c'era i cavalli a parte partendo da bussare e restava con la e insomma il vero nome di Farvest era perché erano queste baracche fatte a Farvest in più fondata una società sportiva del muoto denominata Farvest scritta in rosso su una maglietta bianca con bordo rosso e con il figlio rosso scritta Farvest le frasi a parte anche a femmine andavano vari i semplici dati dove andavano? sui fontanassi sui sim sui fontanassi i fontanassi era sotto il ponte la ferrovia? prima prima di arrivare al ponte le ferro a destra le ferrovie? si le ferrovie no le ferrovie e lei aspettava i merci che si fermava andava in cima i vagoni e si buttava su tuffo tuffo ma questa società sportiva si veniva a gare? no no era favorati così per organizzare dai 5 e chi era il capo non mi ricordo che io faccio anche un magliette su tanto magliero che ne sai? si che era dunque un ginduco non so se si aveva che era nani cruzi e uno che sta decorando la medaglia in Libia contro nel 34 35 contro i ribelli in Libia che salvava una barca di municione a nuoto stava decolando insomma il letto usato e si trovava troffiamo cos'è che andasse a fare guerra? no no gare no no e lì però si trovava a fare queste scuole tra le ore però si 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 giusto si, sono in Noa, la mattina e la sera, gli aspettavo a Melzi e gli avevi fatto la barchetta la barchetta si non avevo questa a fare vespera era un gruppo diverso questo qua a barchetta mi fatto dopo, poco prima della guerra, poi ero i giovani io di che classe ero? il 21 il 21 quindi aveva 30 lui 20 anni, ora che aveva era 5 anni solo avevo fatto ma come avevo scampato durante cose mi, l'8 settembre, no, l'8 settembre ero a Carlovas io ero vicino il vicino da Capria un passo davanti che altro, 28 giorni e me salivo a casa che viene? e ha seguito di qualche maniera? si, vengo, ho provato di andare a lavorare qua tot sono dei primi due giorni e poi non me trovavo se li tedeschi? e l'impresa della voi tedeschi e poi sono andato e se non andavo più se non andavo più non tiravo a Grecia era obbligatorio andato era obbligatorio uno a parte o che altro e ora se io non andavo e poi sono andato qui c'è a padrinale a Sant'Angio dove ero a Sant'Angio? dai Vendramini dai Vendramini e anche a voi altri a Vendramini come gli appartuse camminamenti sì si dai Vendramini c'è l'area di Vendramini i Vendramini era dicemo era anche aerea in fondo era il posto del ritrovo dei Vendramini degli operai gli operai i i i i gli i gli i i erano tipo fossi in seno? Fossi, fossi che cosa che tu hai fermato? io ero in seno cioè per fermare per mettere i soldati dentro? per mettere i soldati, si ma non era una linea continua? no, no, no dopo 6 strade io avevo messo 2 o 3 impiantare bloccare il traffico che era il 45 questo? si, prima il 45 il 43, il 44 il 44 poi l'incorso dal Ponte ma in mezzo hai campagna di Sant'Angio che faceva queste trincee si, Sant'Angio, si non va presente in che zona? dunque adesso è su si, la domanda è male ma magari dove faceva queste trincee? e trincee già che davanti ai casami davanti gli armini io ero a contraerea dopo si, 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 mi ricordo e a trincea dove eri ora? io ero siccome chi prevedeva di bloccare l'avanzata ero in questi camminamenti per metterci soldati uno qua, uno là e allora poi 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 mando allora allora mi raccomando mi raccomando il nostro gruppo proprio questo gruppo si 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 E' interessante questo fatto di questi tosati che andavano sul SIL proprio annuale organizzato. Non che era altro. E prima dopo guerra, prima questi stati... Parlo, parlo del 29... Ancora... Prima dopo guerra, insomma, negli anni 20 risemmo, ecco. Lui era ceo e si ricorda... Mi ricordo benissimo, mi ricordo benissimo. Il capo, il più famoso, chi era? Eh, io ero tre mesi, non mi ricordo più che... Non pensi che sia un qualche fotografia per fare questi... Qualchietunque ha piaciuto questa fotografia di quel maniente? Si, sapete bene? Eh... Si, non aveva qualche tuffo o qualche... Mese del fango, perchè era paltan... E' funta una silla, non aveva... Però non aveva il pericolo del malattie, insomma... Non aveva chapato malattie, no? Mira qualche dio malattie... Sul SIL. Alla era sangue. No aveva inquinato un cuoco, come un cuoco... Alla era acquanita... Era... Genuina la roba, roba... Quasi quasi si poteva bella? No, quasi, la bevemmo anche... Te che gli sei mai l'acqua in mano? Sui FOTALASSI? Si! Noi maggior sì, però... Noi si foteva l'acqua, che era quasi l'acqua ferma noi... Che erano i rannabutti che... Ebbene, tranquilli... Mai è successo un cuoco... Io mai mai... Anche se aveva i canini di Sindu... No, ma i canini... Quelli scaricavano... Quelli era... Quelli era Sofogna... Si, che aveva Sofogna... Ho capito... Poi i canini erano inutili... Io non erano i nostri cani, adesso si... E se il nostro far west ora si contrastava con quelli che erano usati ogni tanto qualche pochia baroni? E... Ecco... Forse no... No, non erano far vedere dopo... E ora... Si andava più far west? No, no, poi si andava via... Ma i casi si restava? No, non buttava via i baracchi e tutto... Ah, non buttava via... E lui di noi, come che Mosulini ha fatto le case popolari... Ah... Sant'Angelo, Monigo, Sant'Agonas, San Lavoro, San Miero... Ma vedeva che Sant'Angelo... Quello del caso di Sardin è fatto nel 25, a dire vero? No, no... 25, 26... No... Tutti i baracchi li spostavi su tutti i casi usati, torno a torno... Ma se non i baracchi erano accanto, dove erano 500 persone... Eh, 500 persone... Circa... Non capisci... E dopo... Era l'ostaria, che era fruttario, che era qui che vendivano i carbon... E tutto che era... E io era Piero Casuini, che andavamo qui a Pianconi... Li vittremmo il secondo... Andavamo portare i confettini di quelli fatti di legno, se puoi dirgli... Sì... E dopo si è restata, cavalli al baracchi e si restavano i Valtri sui casi in muratura... Sì, in muratura, sì... Marco Lini... Sì, questi qua e qui Canie... Ah, adesso non ho messo affatto il quadro, era come cagliere... E ora, già Valtri, però, avevi sempre questa consuetudine di incontrarli con quelli da parte reale... Sì... E se trovavamo il padronnato, no... Destra e sinistra... Sì, diciamo, no... Ah, è facile partire del calcio... Sì... E ora andavamo a Sant'Angelo... A farle... A farle... Dove è Sant'Angelo? No... No... Perché io... Dopo sei il sole... Una volta che ero un praia... Tutto il campo era... Sfai in muratura... E mi una volta che la vicenda che era per la prima volta... È un paese... E una palla... E un cuore di una bottiglia che sono tagliandello... Di scassi... Ma non ero mia... Non ero mia scarpe... La scassi... Ora è scarpe se metteria... Con la Moscova... O la Gominica... Se no... Non ero scassi... Ovvio... E... Quello di... Osteria... Lo conosceva tal dato? Quello del Ponte Ottavi... Osteria che... La Tallo? Eh... Sì... No... Com'era... Facendera? La mia coparticava poco... Ma... Era un bel ambiente... Tutto l'altro... Se l'aveva a fare... Che a me... Mi ricordo... Paolo Aldo Carniato... Che era... Ed era... Lì... Il fondatore... Di Abuchio Fila... Era... Già prima della guerra? Sì... Prima e anche dopo... Anche dopo... Dopo la guerra... Sì... Dopo la guerra? Dopo la guerra? Un po' di minuto... E' un po' di minuto... E' un po' di minuto... E' un po' di minuto... Ma che si è un po' di minuto... Perché aveva tante questioni... Quei preti... Dicendo così... Che non voglia che imparassi... E' un po' di discussioni... Sì... Perché... No... Io era peccato... Sì... Sì... Mi ricordo... Nel bar... Nei Stati Uniti... A Monza... Dopo... Che io avevo fatto il campo di versione... Davanti al campo di versione... Io era assai al bar da sola... Da colpito... Cioè... Ma aveva... Al bar sinistra... L'entrata del campo... Era assai al bar... E' un bar... I Stati Uniti... I Stati Uniti... I Stati Uniti... Era il cubo principale del bar... Il bar... O no... Si... Era una grossa... E' un tabacco di contrabando... Si... E' un tabacco di contrabando... E' un tabacco... Per il periodo della guerra... Subito dopo la guerra... Durante la guerra... Andava anche durante la guerra... Era... Non si passava... Non si andava a comprare... Se il tabacco... No... E dove lo trovava? No... Sì... Quanti... I Stati Uniti... I Stati Uniti... Come si chiamava... Perdona... No... Non mi ricordo... E l'altro rimane apposta... Perché... S'avevi trovare il tabacco... Insomma... Si... E anche... Si... Si... E mi ricordo che... Un sabbo... Andava benissimo... Tanti... Non avevo... In Già... E... Non avevo... Innanzit... Ma... No... No... Ma che... Si... No... Quei... E... E dopo noi bar... Ancora... Dove? Non c'ero a Tinder Rosa... Dove eri a Tinder Rosa... A Tinder Rosa... Era a Pinazoli... Con la Cava... Ocina... Qua... Ma non è... Appe Antало... A Frateanza... Ma dopo... Vero a P майca... Prima. Dopo quello che c'è una parte che ha treviso. Perché? Mi ha eliminato tutte le forze che cosa, Grotta Azzurra. Mi ricordo cose che chiamassi, dove c'è caseato, al Duomo. Dopo che c'è, era cambiato una volta quei giornali di sola, che era un ritrovo dei posti di Calafonissia, che era un ambiente fino. Era uno dei pochi posti? Sì, su invito era. E l'azio privato? Sì, all'Ele era prima della guerra. Parliamo sempre prima della guerra. Dopo la guerra la tradizione sarebbe a Balla e le sparì. Ma come mai? Mi ha sentito domandare che ha autorità. Mi dava a Vicenza? Mentre prima era molto diffuso. No, adesso eravamo in piazza. Piazza ai signori? Sì, signori. Quei feci nazionali, il carnevale, il carnevale, sotto al passito detto, inserava su, sembrava. O in distanza sembrava in piazza. Ma era più altra... Interessante che ha fatto è che dopo averla si è sparito al passito. Mi ha raccontato un episodio a Carlo Callato. Che avevo... Qua so che sa da Balla, perché avevo continuato ad averne negli anni cinquanta, così nei primi anni cinquanta, avevo molte pressioni proprio da altre autorità ecclesiati. Sì, sì, sì. Nesco praticamente, è il prete di San Giuseppe. Perché Sant'Angelo non è troppo... Salvo sul periodo che è impiantato il campo delle elezioni che è fatto, stasera, 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 stasera davanti al bar. Prima della guerra questo. Prima della guerra. Prima non c'era niente Sant'Angelo. Non c'era stata una orteria. Sì, era una orteria. Non c'era niente. Non c'era niente. Non c'era niente. Casi usati. Non c'era usati gli Stati Uniti. Sì. Vabbè, ma... Come Sant'Angelo, Sant'Angelo... Sant'Angelo non c'era niente anche adesso, in un certo senso. Ma capiva. E così insomma, questi scontri... Sti scontri del calcio, queste partie, facevi all'oratorio? No, no, facciamo. O daimo a farla... O dal rio al sole, insomma. Dal rio al sole, o daimo a farla a San Giuseppe. Dove così, in casa, persone sbagliate. Dove così, in casa, puoi andare a tutto il campo. Noi non faremo. di sbagliata. Ah, allora qui... Casi vicini al Sila, ancora praticamente... Si, si. Si. Pena andate a sbagliata. Pena andate a sbagliata. Pena andate a sbagliata, a sinistra. E tu se ti hai caso... Chi vincevi a popolità? Eh, eh... Tutti. Io, la volta vinto, la volta a caso... Sì, sì. Botte d'orchino, ne tanto? No, no. Se trovinimo la soia, più che altro... Normalmente, la mia scuola, nelle scuole di capelli, no. La scuola di capelli, quel padre non ha mai. Se trovinimo la soia, tu hai visto. perché non voleva mai venire a giocare al padeonato, perché era il trucco del muro quando ti buttai il padeon così, andai a fuori per il calcio e ti scampai, invece qui che veniva da fuori, mi sapevano ma su questo cortile del padeonato separati i signori dai poeti? si, si e ad altri cosa dicevi questo fatto? ad altri bastava la giostra, giocare la padeonato, giocare il lato i carabinieri ma i signori venivano i fiori, i fiori dei signori venivano qualche volta con altri? no, no, no ma erano separati da questo? erano due o tre schieni e il più basso, diciamo dove c'è il cinema arcobaino il cinema arcobaino è anche mio che senso? perché prima che erano il teatro sotto è accesito da sola e in questo 34-35 crepava tutto, si è buttato tutto era il suo progetto dell'ingegnere Betassi è morto che era il suo pioglio che era il suo viscovo a Ivrea e in questo fatto il cinema nuovo erano avanti i poveriti che mi portavano due lire e quando finì dopo scuola scassinò i piedi papà l'attuare arcobaino, cosa c'è? cosa c'è già vi adesso? arcobaino? il risorgimento della figlia è il suo arcobaino qui voglio rincorporare al padronato su Nicola e vadovi che dai questa mancia è anche a scuola? due lire più a mano d'opera e anche io ma i due lire erano obbligatorie? no 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 che non poteva oddio ma non è che ci passi a parole vuoi dire questi fiori? no no io li li mettevi in giro ma no 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 erano che era massa di stacco non si dicevo niente ah proprio? si erano quelli che andavano al più decimo? si qui andavano a Riccati, al Canova e invece una casa si erano che vivi i comuni della provincia no? e ne se io mangiava e dormia il padronato no? ma non lo vedi niente a che le regolate? niente a che le regolate no vabbè e dopo su questo silo fasi due altre robe? o tre anno a arro cosa facili? io avevo tarzan due di altri due di silo si come sarei di? in puntandine se lo fai un pugnale di inno se lo fai un cigallo come se la tarza e so in acqua e l'altro di che era era se c'era lì 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 e più andavi a fregare questi pugni si che sono tutti posatei sono tutti posatei più gatti no? intanto per quello era vi direvo qualche parola eh come anche tante che corse con la canottina e la pina di uva se terminavo e carriamo via con la barca nel medio filo non andavamo da parte la barca no? perchè andavi e organizzai uno con la barca in barca no? nel medio da riva uno stava da barca e che andava a peri o a pomio o a uva che se veniva il parone che allora si rilontanava dalla riva e adesso andavamo dentro andavamo in cima la barca dopo quel bottino ma da che famiglia eri? si ricorda come si chiamava che andava la barca? perchè c'era il ferraria a lua per un muoio se non ricordo insomma le casanovia che gli erano ma dove c'era il suo vile a Letizia a Sant'Angelo? dove c'era il quattro? dove c'era veniva a fare a mostra? perché veniva a chi veda? no 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 l'idea che risponde le casanovia quando che? dopo il contratabile lì è ben si eh il bel signore che trovo scarico nel senso del tetro non lo so le paure insomma avevo un po' per paure capirei? ecco perchè? non lo so il primo ma che esempio che era dentro? non lo so era abitare o no? non lo so no andavamo passare dunque la barca non lo so non lo so un senso di di timore diciamo di impaurire ecco di poca mentre di qua io ero più a adesso di qua io ero più a a San Giuseppe se ricorda come si chiamava? no no nessuna moglie perchè uno si è andata di poca dei sti paroni? eh se non aveva nessuna tutta la figlia non aveva non aveva ma e che casa aveva? io abitavo su che figlia aveva casette? non aveva la sua casa ma che si è andata? si ancora vedo ancora vedo ancora ah si che è andata prima da più che si cerca che si cerca ecco si ma come si chiamava? moro? guarda che si chiamava? non si chiamava Moro non si chiamava Moro non si chiamava Moro non si chiamava 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 anche perchè qui non aveva sicuro non si chiamava qui fuori di Casio Satti per esempio ma sempre il limite era Beppi Piovesan Cremonese non so non lo conosco il biscotto che stava in Simbaldente c'era zona A Gizio Amadio conosci Gizio Amadio l'invenzione si si e dopo che ieri mi chiedi Gizio venivano per io con la squadra Gizio Amadio sulle mani io sono però non si chiamava non si chiamava sulle mani non si chiamava sulle mani sulle mani giudicare per gli farei sono a non si perdono Gizio Amadio piovesan nel ieri che stava prima delle vacche a osteria a sinistra che andava nel suo strato Sant'Angelo Basso, e una casetta bassa a destra e stava là Ma era il tuo lavoro ferroviario, è stato fatto dopo quando gli anni sessanta no? Ma era dove lavoravano questi marcoini? Si, la terri lavorava Non Baldente? No, no Non c'era niente Il Baldente che aveva i cariodi era là E' la curva del Cino La era tutta terra bassa che era stata rialzata in che anni era? Se ricordo io che l'era In poche volte poi aveva rialzato questo marcoini E quando che... La lavorava in marcoini Non so se il proprietario dove si sta De maniare, ferroviario e comunale Non so di chi è stato il proprietario del Cino Sopra di marcoini Che eravamo i ferroviari Gli agai sala I ferroviari prima Gli avevano l'orto di guerra Cosa c'è stato? L'orto di guerra Gli avevano, in tempo di guerra Avesse impiantato fiori Gli avevano impiantato verdura Frumento, patate, come avevano Poi non avevano più fiori Gli avevano maniare Gli avevano l'orto di guerra Giusto? No, bisogna farlo anche adesso E' vero Comunque Seria giusto Che tanti mesi di spreca così da Comunque Cioè per carità Non c'entra poco E ora ognuno che aveva Ogni associazione Diciamo Che avevano i orti di guerra Chi eri? I privati o le associazioni? I privati I associazioni I ferroviari Gli andavano E noi andavamo a fregare Non avevamo niente Lo capisco E il Belvedere Si ricorda io Come chi scavava? I Belvedere Avevano cariotti Io erano cariotti ormai Non più scavatori di ghiaia No, no Cariotti Però prima erano stati cavatori di ghiaia Mi Che non mi ricordo Mi Sempre Cariotti Con i cariotti Come Graneo Che l'ha fatto fortuna in Graneo Si Graneo E il vecchio Finito la vera E portava i rovinazzi E stava fuori E mi tirava fuori i piedi Per me vendere Perché non aveva l'ora E vendevi Si trovava I piedi E si trovava E si trovava E si trovava I piedi 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 E si trovava Per bruciare E una volta Ho buttato dentro Sastua Un tocco di nio Che era Un progetto De niente E mi occupava Tosa Perché è un progetto E che è un progetto E che è un progetto E mi cascava su una villa Che aveva Cámara, Cugina Tutu quanto su una stanza Su una stanza Su una stanza Si E così poco spazio Perché è stato Bombardato E mi era sposato Su una stanza Su una stanza Su una stanza Mi nasce questa casa qua Questa casa l'ha fatta in che anno? Mi nasce Quando è il 1952 Però Ma Molto più C'è La sala è a casa questa qua Si E tu hai riscatto tutto In traia Riscato E io si era sposato In che anno ora? Nel 1947 Beh In 5 anni E' stato sul tocchetto La casa Questa mia Non poteva stare No? E ora sono a casa Io ho una stanza Libera Diciamo sul lavoretto del rio Il cilio E sono una stanza Ah sul risaletto E ora per insegnare Se io che lavorava sempre Dove... Lavorava Per spalagnare Si ma doveva lavorare Come mi ha detto... Mi lavorava E appena finito questo Andavo a Telve Dopo appena... Dopo poco che ero sposato E mi era licenciato Perchè? Perchè? Perchè non voglio criticare Se è che non vengava più bene Dopo 3 anni E hai fatto il sciopoli No, no, no Ora non c'era il sciopoli E... E' una raccomandazione Ecco Ecco E' una strana camara di commercio E sono stabiliti Hanno Un'altra strana di camara di commercio Ma dovevo fortuna Nella Si E cosa faccio in realtà Sì E' un servizio 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 Io vengo in centro stampa e vorrei cambiare il commercio, con la tipografia e facerai la tipografia. Però i garagni duri sono appena dopo l'era, ho detto qua a ingegnarsi tirando su sto piede. E' evidente che faceva il monevale o anche sotto l'anonima elettrica? Sotto Telve. Sotto Telve o l'anonima elettrica? Differenza tra Telve e l'anonima elettrica. Telve è detto che finiscono un po'. Ah, ho capito, scusa. Era l'ora che toccava ingegnarsi a tirare su queste piede? Eh sì, era il gran pago. Era il pago, era il mangiare appena appena. E' usato nella sua zona, eh? Non sa che era che era la possibilità... Ma eri in tanti che recuperavi questa roba? Eh, non erano tanti, non erano tanti. Io mi ricordo che veniva proprio il cambio rimorchio e piede, mezzo piede. Chi veniva? Io tirava fuori. Io tirava fuori. Qui avevo bisogno di piede per farci la calca. Ora, per i ore. Allora, fino a poco di qua di voi, a bombardare o a fare la casetta, con mani a piedi, che eravano... Ok. Quali fosse? che lavorava tanto, che lavorava tanto, perché eravano pagare la mamma, no? In più, recuperavano anche un po' per piedi. E' l'importante. E' l'importante. I bombardamenti, no? I bravi. I bravi. I toghi e toghi e toghi e toghi. No, tutto quanto fosse a bovo, no. Ma erano in tanti, però... Erano in tanti, sì. Erano in rotta o no? Sembra ruffa? No, no. Era po'... Erano in rotta un po' di nasconeio. Erano polli ezzio, erano polli ezzio. E' l'importante ezzio, erano polli ezzio, erano polli ezzio. Erano polli ezzio. Erano polli ezzio, erano polli ezzio. Erano polli ezzio che grossi? O... Erano polli ezzio, erano tanti così, erano polli ezzio, erano polli ezzio che mi gusta questa casa qua. Que così? Si ha definito l'epopea di farlo ezzio. E' l'epopea? Che io all'azazare la historia. Erano? la storia è bella perché dopo quando abbiamo il padronato finito la scuola andavo a pranzo i miei anni dopo questo orario unico andavo dai due ai quattro e veniva il padre Giuseppino andavo sui padronato torne per andare a fare esion dopo scuola cosa andavo a fare? andavo ai miei baiete e andavo sui casini mi aveva scritto salve sui tappei in rete e scritto salve con quelle marmorine bianche ogni marmorina andavo a cinque baiete di fragna ero piccoli, non c'era anche via, potrete no? no, no, non c'era l'argi è tremendo vero? in tutto il mondo dei paesi forse un cuovo, no, degli animo più paurosi che altri ero più paurosi perché passare a quel genitore o un superiore o qualcuno che ti guardasse bastotto per sbassare la tetta e non li alzavi più un cuo... quindi su questo gruppo del far west ero chiuso con il 29 i baratti, le varie casette, c'era un buco mestre che hai fatto l'estate allora no? no, un buco mestre ho fatto dopo dove andavi ora? Sant'Angelo o case usate dopo? eh ah, ma Sant'Angelo... no, quelli dei baratti i baratti, i baratti, i casi usati, i casi usati oppure... dove? i baratti, i baratti, i baratti, i baratti i baratti, i caratti, ho fatto il gruppo di case e ho guardato il comune, no? no? si, lo aveva fatto a Monigo, i casi usati, no? a Santa Buona, a San Comedieroe, a Fiera, a San Lazaro io ho messo un pochettino per parte per i baratti, per i baratti, per il Pienzella era... si, per i casi macedonia eh E Santabuola come stiamo invece? No, prima di arrivare ai Cacciari. E Casio Satti a destra. Non ha un nome particolare? No. A proposito, San Nazaro, Borgo Canova. Canova? No, un po' di maestero si. Un po' di Savoia. Un po' di Canova no. Un po' di Canova. No, no, un po' di maestero. A San Nazaro? Che ha usato il bordo di Venezia insieme a San Nazaro. E ora, ho ancora un po' di metri, mi dice questo sì sempre, che è quello che mi interessa. Altre cose che facevi, altri, non so. Qua barca? Qua barca? Un altro episodio. Per esempio, i Moini, questa barca. Questa barca? Se buttai in casa. No anno, no anno. In gruppo. Sino a... Il giorno di San Giuseppe, mi ricordo di un anno, da dio a cese mi sono buttato in acqua da mia mamma e la mia collega di Dio, sono andato a casa da una cese, da una cese, da una cese, da una cese